Qual è il luogo sulla pista ciclabile di Sanremo? Non sapevo neanche che c'era, perché agli anni non c'era, poi non è che sono qua di casa, vivo da fuori, ho sentito parlare, è una terra ciclabile, per ciclisti fa già piacere questo, perché si sa che arriva a regola che è abbastanza trafficata, però questo tratto così che non c'è il traffico è magnifico, tutti quanti da l'area, soprattutto anche per i giovani. Andrà in esplorazione nel nostro entroterra, che percorso farà adesso? Ma io conosco i percorsi, perché è tanto che ero qua davvero direttante, presionista, poi vengo in cilindale con la Sanremo, sono molto spesso anche in ritiro con le squadre per preparare la stagione, quindi la zona la conosco molto bene. Tra l'altro lei ha dei bei ricordi legati alla Milano-Sanremo? Uno in particolare che l'ho vinto, che la città vinceva in un momento lì, esatto. Non era neanche un bel tempo il giorno, eh? Questo poi te lo do, perché è il centenario della... Ah, esatto.